In un periodo di forte crisi economica in cui l'emergenza lavoro morde più che mai e le aziende chiudono a Naspano, parlare di coraggio imprenditoriale e di conseguenti successi è anche un'iniezione di fiducia. Un raggio di luce confortante in Molise rappresentato dalla Diorio S.P.A. di Frosolone che produce acque minerali, bevande e liquori. La sua acqua, Molisia, in Cina viene acquistata nelle farmacie per le proprietà salutari e per la leggerezza. Acqua minerale Molisia delle sorgenti di Sant'Elena Sannita. La Diorio S.P.A. è una delle aziende più longeve d'Italia. Tutto iniziò e si sviluppò quando il 1800 volgeva al termine e il 1900 vedeva la luce 120 anni fa, grazie all'intuito di Filippo Diorio. Da Bologna tornò nella sua Frosolone con un bagaglio di esperienze di vita e studi e ricette di liquori fatti in casa, queste ultime, avute in dote dall'amata moglie. Un mix che contribuì al successo. Nel suo Molise iniziò a imbottigliare e produrre gassosa. Da Filippo fino ad arrivare a Gino e Domenico oggi l'ascesa della Diorio S.P.A. è stata continua. I momenti di difficoltà non sono mancati, affrontati però con tenacia, sacrificio ma anche con competenze e capacità di capire i mutamenti del mercato, di scommettere, tecnologia e innovazione senza mai perdere di vista l'ambiente, il territorio e le tradizioni. Questi gli ingredienti principali del successo, un fatturato di 6 milioni di euro nonostante la crisi, trend in crescita, più 15% di export nel 2018 con prodotti venduti in Canada e soprattutto Stati Uniti e Cina, ma anche in Australia, Oriente e Paesi Arabi. Nello stabilimento molisano ci sono impianti all'avanguardia con un'attenzione particolare a conservare le caratteristiche organolettiche delle materie prime. La Diorio S.P.A. è una delle prime aziende al mondo ad aver utilizzato il metodo del vuoto in bottiglia per una migliore conservazione del prodotto. Un'azienda che guarda il futuro restando al passo con i tempi senza mai rinnegare ciò che la caratterizza da sempre. La qualità è un prodotto il più naturale possibile. Ora punta su una nuova linea di bevande, ginger ale, ginger beer, lemon, tonica e soda. Sengs Up, il marchio, ingredienti 100% naturali, lo scenario di azione imprenditoriale in sostanza è anche un mercato in crescita, quello della mixology, in cui Sengs Up può dire la sua con autorevolezza, come fa la Diorio S.P.A. da 120 anni, un orgoglio per il Molise e l'Italia.